eccoci giunti a un'altra puntata della serie dei tutorial su retropie che sta girando su raspberry voglio farvi vedere come mettere i filtri grafici perché tante volte i giochi chiamiamoli vecchi retro game visti su uno schermo moderno insomma si vedono i pixel giganti non tutti apprezzano a me non dispiace però si potrebbe desiderare di migliorare la qualità dell'immagine allora vi faccio vedere come si fa si va su setup bisogna scegliere retropie setup questo appare il menu bisogna scegliere configuration e tools dopodiché config edit e poi scegliere la prima opzione configure basic libretto emulation option qui compaiono tutti i sistemi che voi avete messo io lascerei perdere il primo configure default perché vi mette le stesse opzioni per tutti e non è detto che un filtro applicato ad un emulatore poi funzioni bene anche su un altro quindi io consiglio sempre di sceglierne uno e configurare quello andiamo sul siga master system ok vedete allora innanzitutto per mettere un filtro che sfumi pixel è sufficiente mettere su video smoothing il true vedete si può fare unset true e false a me non piace tanto questo perché donna un'immagine leggermente sfocata allora adesso lasciamo su false qui si può beh questo non è un filtro ma qua potete mettere le proporzioni che volete se avete ai lati dell'immagine per esempio qui e qui quelle fa quelle bellissime decorazioni che fanno vedere la console è il caso in molti molte volte di mettere quattro terzi io li ho tolti quindi lascio 16 noni che almeno avendo io uno schermo 16 noni mi copre tutto lo schermo qui si può forzare la risoluzione anche se onestamente non ho notato grandi differenze io lascio questa e qua c'è video che sceder in ebolo false perché è in ebolo false perché qua alla riga 4 video c'è del file si sceglie il tipo di filtro che si vuole mettere però se poi su false è inutile sceglierlo perché non lo fa non lo farà vedere bisogna mettere prima su true e poi scegliere qua guardate quanti ce ne sono sono veramente tantissimi e potete scegliere il filtro che volete allora per esempio se si sceglie questo uno caso hq 2x questo già spume pixel a me piace anche se dona forse un aspetto un po' plasticoso ma almeno non è sfocato qua dovete provarli voi e scegliere quello che vi piace di più ok poi onestamente io con questo inutile che metto il video smoothing si può mettere non ho notato differenze però dipende da quale da quale scegliete voi ci sono anche quelli che fanno le scan lines che fanno sembrare un po' ricordano un po' lo schermo CRT a tubo catodico ci sono quelli che fanno lo schermo bombato convesso insomma potete potete sbizzarrirvi dovete provarli voi però va a gusti dovete mettervi lì con un po' di tempo e provarli tutti invece l'overlay enable adesso su false è quello che mette le decorazioni che vi ho detto prima qua sotto si sceglie quale si vuole e poi una volta che si è scelta bisogna mettere qua invece che su false bisogna mettere true altrimenti non si vedrà quello scelto ok spero vi sia stato utile se vi è piaciuto questo mini tutorial iscrivetevi al canale magari mettetemi un bel like ci vediamo alla prossima guida ciao a tutti